OMAG è un gruppo italiano impegnato da 50 anni nella realizzazione di macchine e linee complete per il packaging. Con sede principale in provincia di Peso Rubino e una rete commerciale attiva in tutto il mondo, offriamo soluzioni per i clienti più esidenti nei settori del food, farmaceutico e chimico. Oggi le macchine che realizziamo sono un concentrato di molteplici tecnologie, pilotate da un'automazione di alto livello. Ormai da 15 anni ci affidiamo alle soluzioni di Schneider Electric, in particolare alla gamma Pack Drive, sviluppate specificamente per soddisfare le esigenze del nostro settore. La collaborazione con Schneider Electric si basa su un rapporto consolidato di partnership, fondamentale per progredire insieme verso le macchine per il packaging del futuro. Pack Drive ci consente di progettare e realizzare macchine, che ovviamente rispondono alle necessità tecniche operative dei nostri clienti, ma nel contempo ci assicura una marcia in più anche sul fronte dell'efficienza, della sostenibilità e dell'affidabilità di processo. Siamo in grado di rispondere alle richieste del mercato e di aggiungere caratteristiche sempre più apprezzate, come la connettività della macchina verso una piattaforma cloud per l'archiviazione e l'analisi dei dati, al fine di conoscere in tempo reale le condizioni operative e gestire la manutenzione in ottica predittiva. Abbiamo inoltre pensato a ulteriori funzionalità avanzate, come la realtà aumentata, per supportare da remoto l'attività dei manutentori e l'uso della tecnologia blockchain per garantire la correttezza e la sicurezza dei dati in cloud. I dati rappresentano uno strumento straordinario per l'analisi del ciclo di vita di una macchina, ci consentono di comprendere al meglio come progettare le nostre soluzioni, affinché il loro impiego, la manutenzione, lo smaltimento o il revamping risultino in linea con il nostro concetto di sostenibilità. Proprio per questo, su tutta la famiglia di macchine confezionatrici, abbiamo scelto di realizzare un Life Cycle Assessment, consentendoci di offrire ai clienti credenziali di sostenibilità certificati.